Mi raccomando, niente più alto ritmo, niente più movimenti e cose varie, ci vuole GEDDU, signori, GEDDU! SONO INIZIATI I CAMPIONATI REGIONALI CHILDREN Oggi si inizia con lo slalom ragazzi, una pista bella, molto bella, è un piano iniziale e poi un muro parecchio difficile, soprattutto con la neve dura e diventa impegnativo. Qui praticamente ci sono i due giganti e i due slalom ragazzi e lievi, mentre Alagna ospiterà il Super G su una pista spettacolare anche qui. Giorno, buon giorno, buon giorno, buon giorno, buon giorno! Continua! Continua! Non sto filmando te. C'è il Monte Rosa che è più bello. Filmo anche te dai. No, ma è più bello il Monte Rosa sicuramente. Il Monte Rosa e il cucuzzolo. Io oggi sono l'arbitro. Spero che sia una gara regolare e che vada tutto per il meglio. Per te che mi devo anche riprendere. Questa è serata oggi. Grazie. Grazie. Finito lo slalom ragazzi. Si scende valle. Domani si va a fare il Super G ad Alagna. Grazie. 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 Grazie a Mera. Gigante molto tecnico, molto difficile, non c'è un attimo di relax, un attimo di rilassamento, forse proprio giusto dalla quinta porta alla quindicesima, che ci sono un po' di porte sul piano, lì però bisogna spingere e spingere, poi si entrano in una serie di muri, muretti e cambi di pendenza veramente tosti, il tempo è un po' velato per fortuna perché almeno la temperatura rimane bassa perché altrimenti la neve sarebbe già scoppiata, appena esce un attimo di sole come adesso si sente subito, sembra di essere vicino a un termosifone. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Colleghi Bravo Grazie a tutti Siamo tutti contenti E' andata bene? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti